BOOM a tutti ragazzi! Non posso urlare perché stanno già dormendo, è mezzanotte e mezza però prima della reaction, che è già pronta, ve la caricherò subito immediatamente dopo questo video ci delinevo comunque, come vi avevo promesso stamattina, a portarvi il commento post partita di PSV Inter ragazzi, che ve lo dico a fare? La reaction è epica, quindi andatevela a vedere ma ragazzi, la partita che abbiamo visto oggi è calcio, calcio allo stato puro tralasciando i mammadroni che ci fa venire l'Inter, che tanto lo sappiamo che è così tralasciando i gol della madonna che ci fanno ogni volta contro oggi abbiamo visto un Inter con le palle, con le palle mi sono piaciuti tutti, tutti, gli unici tre a cui non do la sufficienza sono Besino, Perisic, il peggiore, e D'Ambrosio loro tre hanno perso troppi palloni, troppo distratti, troppo sbogliati il peggiore è Perisic, poi D'Ambrosio e poi Besino Perisic 4, D'Ambrosio 5, Besino 5,5, tutti gli altri perfetti Skriniar, una roccia, Devrai, Pulito Asamoah, Concreto, Brozovic, Ovunque Raja, Drogato, regà Raja è Drogato come cazzo fanno a mille così, è troppo forte, troppo forte, troppo forte Politano ha giocato la sua partita e il suo 6 glielo do dall'altra parte Perisic abbiamo detto, cane morto, Icardi ragazzi Icardi, 9, 9, Icardi 9, a me non piace ma quando ti tira fuori, 2-3 volte all'anno queste partite così, dove difende, segna gol pazzeschi perché ha fatto un gol pazzesco, a parte l'assist meraviglioso, ma il gol pazzesco veramente la protezione del pallone sia in attacco che in difesa a centro campo, ragazzi, complimenti a Mauro Icardi quando c'è da dirlo, c'è da dirlo cioè, si tifa l'Inter, si tifano tutti che uno poi, può piacergli o meno, è relativo però, quando fa queste partite, giù il cappello, veramente Spalletti, che ha vinto ancora che sta a 6 punti insieme al Barcellona tanta tanta roba, not bad mo' ce la giochiamo con sti spagnoli del cazzo con busquets di merda sono veramente felice, ragazzi stanco, stanco, ma per l'Inter c'è sempre tempo adesso vi pubblico questo e poi subito dopo la reaction noi ci vediamo al prossimo video lasciate tanti like e sempre, sempre, forza Inter buonanotte e un bacione a tutti ciao, ciao